Un sequestro da 9 milioni di euro, 14 misure cautelari e 24 indagati e il bilancio dell'indagine della Procura Europea e dei PM di Marsala su un giro di corruzione e truffa sui fondi UE. Ad orchestrare tutto, secondo l'accusa, sarebbe stato l'ex senatore ed ex deputato dell'Assemblea regionale siciliana Antonio Papania che insieme ad altri indagati avrebbe utilizzato più di 8 milioni e 700 mila euro del Fondo Sociale Europeo destinato alla formazione professionale per spese personali e per il proprio movimento politico. Le indagini delle Fiamme Gialle hanno accertato anche episodi di corruzione, malversazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Nel dettaglio, Papania, finito in carcere nei mesi scorsi, nell'ambito di un'altra inchiesta, con l'aiuto di complici, avrebbe allargato la composizione del partito fondato qualche anno prima chiamato Valore, Impegno e Azione, ampliandone anche l'area di influenza sul territorio trapanese e regionale in vista delle elezioni, servendosi dei finanziamenti ottenuti indebitamente tramite gli enti CESI, FOP, IRES e Associazione TAI. Inoltre, in cambio del sostegno al movimento politico dell'ex senatore trapanese Papania, a sei esponenti politi siciliani, di cui quattro attualmente consiglieri comunali a Marsale e Custonaci, e ai loro congiunti sarebbero stati dati o promessi posti di lavoro, nomine e promozioni presso gli enti di formazione che l'ex politico di fatto controllava. Nell'inchiesta sono coinvolti anche sei esponenti politici che rivestono o hanno rivestito cariche presso i comuni di Marsala, Buseto Palizzolo, Calatafimi Segesta, Castellarmare del Golfo ed Erice.